...contemplativa e vicina alla natura con un gruppo di musica medievale che si chiamano Microlobus che abbiamo qui, sono di Assisi. Aspettando questi strumenti che hanno ancora un rapporto ancora più diretto con la natura perché sono anche nelle forme, nei materiali, si vede ancora proprio più prossimi alla simpatia. Pensate che le corde vibrano per simpatia, perché una è simpatica con l'altra e quindi c'è una comunanza di armonici che vi fa vibrare. Questi sono tutti strumenti che vibrano così per simpatia. Quindi vorremmo insieme suonare una rima musicata di Michelangelo, è un luogo di così eccessa arte religiosa ed è francescano nello spirito perché è un brano, una rima in cui insomma denuncia così il mercimonio della fede e quindi per il suo attaccamento al concetto della povertà e della purezza mi sembra adatto da eseguire in questo contesto. Lo ascoltiamo. Inizio con il sede. E in altestino sono 18 Katia solo da questa paranzia in Sacade Ma non ci ero più in queste puntate Che mi andrà il sangue eな HERO Posso che a Roma gli mettono la pelle Ad ogni megano ho chiuso le strade Posso che a Roma gli metto la pelle Ad ogni megano ho chiuso le strade Se mi dai voglia per te st'auro Per ciò da quando ho proprio ben partita Con quel filmato che metto San Mauro Masse alta in cielo E povertà gravita Qual fiede nostro stato il gran restauro Su un altro segno morsa l'altra vita Qui si fa il vini, calici e spade Vostro vincenagno, lui in Turchia Grazie a tutti Grazie a tutti